Cambia il mondo è il nuovo corso che ti aiuta a capire che la storia è il risultato di grandi trasformazioni politiche, culturali, ambientali avvenute nel tempo. Le grandi trasformazioni che caratterizzano ogni epoca vengono spiegate all'inizio di ogni unità attraverso un confronto visivo tra carte o immagini e un breve testo che descrive il cambiamento in atto. All'analisi delle trasformazioni storiche sono dedicate anche i confronti illustrati dei quaderni delle competenze e i 24 poster del kit per la classe. Tavole spettacolari ricostruiscono con precisione scientifica scenari ed eventi. Lo straordinario realismo della raffigurazione coinvolge gli alunni e li aiuta a immergersi in contesti lontani nel tempo. Queste tavole, inoltre, rendono più accessibili le informazioni e fanno emergere i concetti chiave. Il linguaggio immediato delle immagini è utilizzato nel corso delle lezioni per approfondire aspetti della vita quotidiana e della civiltà materiale e in pagine speciali dal forte impatto visivo. Il testo base ha un registro narrativo coinvolgente che avvicina i ragazzi alla storia attraverso un racconto vivace. Lo stile del testo è semplice. Spiega in modo chiaro le radici degli eventi e le loro relazioni reciproche. Il piacere della lettura viene rafforzato dalla presenza delle storie di donne e uomini, episodi della vita di personaggi famosi e non, che esemplificano temi, fenomeni e eventi di cui si parla nel testo. Le pagine di storie dell'ambiente cercano di evidenziare lo stretto rapporto tra l'umanità e l'ambiente e i cambiamenti a cui quest'ultimo è stato sottoposto. Ai temi ambientali e a quelli di cittadinanza è dedicato il volume Per l'educazione civica, che introduce gli studenti alla scoperta della Costituzione con il commento del noto costituzionalista Michele Aines e che affronta con il linguaggio delle graphic novel grandi temi come la difesa dell'ambiente, i diritti umani e l'agenda 2030. Il corso propone un metodo solido e graduale che aiuta gli allievi a formarsi una coscienza storica con l'analisi delle relazioni tra gli eventi, individuare concetti chiave attraverso esercitazioni su fonti e illustrazioni, sviluppare le competenze attraverso gli apparati di fine unità. Nel corso sono presenti numerosi strumenti per l'inclusione. Le tavole realistiche con le letture guidate rendono più accessibili le informazioni attraverso il linguaggio immediato delle immagini. Brevi testi anticipano gli argomenti delle lezioni e aiutano gli studenti a orientarsi tra gli eventi. Il colonnino passo dopo passo sintetizza i concetti chiave, i fatti, le relazioni e le date più rilevanti, per facilitare il processo di studio e memorizzazione. La sintesi facile di fine unità riassume i saperi di base. Il corso è inoltre corredato da tre volumi di percorsi facilitati, con testi ad alta leggibilità e mappe riassuntive. Il corso si distingue inoltre per l'ampia offerta di risorse digitali e il ricco corredo video. I video Racconta la tavola offrono spunti per avviare lo studio delle unità, partendo dall'osservazione dell'immagine di apertura. I video Le grandi trasformazioni aiutano a comprendere i cambiamenti che hanno caratterizzato ogni epoca. Per ogni lezione del corso, un video presenta i saperi di base con l'efficacia gratificante di un racconto illustrato. L'apparato digitale comprende inoltre Altri video che approfondiscono i temi chiave e le grandi figure della storia. Proposte di Flipped Classroom, linee del tempo e carte interattive, presentazioni PowerPoint, audio sintesi. La guida per il docente costituisce un utilissimo ausilio per la programmazione, la valutazione, la formazione e il miglior impiego del libro con pagine dedicate agli strumenti per la didattica digitale integrata, suggerimenti pratici per fare lezione con i 24 poster del kit per la classe. Laboratori CLIL Oltre alla guida, il docente ha a disposizione il kit dei confronti, una valigetta con 24 tavole a colori di grande formato, da esporre e commentare in classe. Le tavole, dotate di un apposito espositore da tavolo, illustrano alcune trasformazioni fondamentali del quadro storico che hanno influito sulla vita sociale e sul territorio. Il corredo per il docente comprende anche strumenti e servizi digitali. Tutte le verifiche di fine unità sono proposte sotto forma di test interattivi, condivisibili attraverso le varie piattaforme didattiche digitali, possono essere svolte su qualsiasi dispositivo. Il sito del libro raccoglie le risorse digitali del corso, organizzate per argomento e tipologia, per personalizzare le lezioni in base alle specifiche esigenze di programmazione. Il Crea Lezioni è un assistente digitale che consente di realizzare in modo semplice e veloce lezioni interattive. Il Crea Lezioni è un assistente digitale Il Crea Lezioni è un assistente di realizzare in modo semplice di realizzare in modo semplice. I Crea Lezioni è un assistente digitale